Allora con Davide Fiore, delegato ambiente e paesaggio del FAI di Vicenza, parliamo di queste giornate del FAI che saranno questo fine settimana, sabato e domenica prossimi, 23-24 di marzo. Davide Fiore, ci sono anche delle novità, in particolare dei luoghi molto belli che solitamente sono chiusi al pubblico, quindi un'occasione strepitosa. Sì, vorrei porre l'accento su un'idea che è venuta all'ordine degli architetti, che ringrazio infinitamente, di aprire la centrale Gavazzi, una centrale idroelettrica, nella frazione di Bessè, nel comune di Chiuppano, quindi prima dell'imbocco della strada che porta all'altopiano di Asiago. Un piccolo gioiello del razionalismo italiano realizzata con i soldi del piano Marshall dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma con un progetto ancora degli anni 30, che è davvero un piccolo gioiello architettonico e tutt'oggi in funzione, anche se alcuni macchinari chiaramente sono stati aggiornati per le esigenze del nostro tempo. Ecco, la cosa interessante di questo sito è che non stiamo parlando di un bene culturale realmente riconosciuto, ma l'impatto che ha sul paesaggio attorno, con la sua diga, con tutte le sue canalizzazioni, è veramente un gioiello che sicuramente anche nel futuro verrà preservato nel caso smettesse di essere una centrale idroelettrica. Lo consiglio a tutti, perché è veramente un luogo immerso nel verde di grande suggestione e sicuramente pochi conoscono e hanno visto. Non solo i palazzi, le ville del Palladio, come Villa Poiana, che è dall'altra parte della provincia sud, ma anche questa archeologia industriale che però è ancora funzionante. Sì, è un'archeologia industriale sui generis, però il nostro paese ci onora di una grande archeologia industriale, penso a Crespi d'Adda, riconosciuta dall'UNESCO, la città degli Olivetti, Ivrea, stiamo parlando veramente di un patrimonio architettonico, storico, ma anche sociale, civile, che ha una suggestione strepitosa. E a chi non interessa almeno una volta nella vita vedere come funziona una centrale idroelettrica? È davvero molto suggestivo. Quindi appuntamento sabato e domenica su a vedere questa centrale. Nessuno può mancare.